Riaprire il corso principale della città di Benevento alle auto non serve a nulla e non aiuterebbe i commercianti ad uscire dalla profonda crisi dove è piombata la microeconomia di Benevento a causa del coronavirus. Il Partito Democratico di Benevento si è messo in moto per varare una serie di proposte, poi da sottoporre all'attenzione del Comune e della Regione, a stilare un elenco di cose da fare il capogruppo del PD al Comune, Francesco De Pirro, che punta tutto su una vera partenza del commercio online e la semplificazione per le imprese per ottenere i contributi. Snellire quanto più possibile il corpo normativo di quelli che sono i paletti e i vincoli che ci provengono a livello regionale, a livello nazionale. Oggi se non potenziamo prima una rete online, una rete diciamo attraverso, perché il mercato elettronico oggi la fa da padrone, rischiamo che anche in questo senso il commercio beneventano rimanga come dato di modernizzazione o di mancata modernizzazione arretrato rispetto a... Ruolo fondamentale in questo cambiamento radicale è affidato però alla politica. La politica deve naturalmente fare la sua parte e cercare di accompagnare le classi commerciali, le categorie commerciali verso strumenti che possano potenziare l'utenza e tutto quello che c'è attorno all'attività commerciale.